E dunque bisogna lottare per la conservazione di tutte le forme alterne e subalterne di cultura. E' ciò che avete fatto voi in tutti questi anni, specialmente negli ultimi. E siete riusciti a trovare forme alterne e subalterne di cultura dappertutto, al centro della città e negli angoli più lontani, più morti, più infrequentabili. Non avete avuto alcun rispetto umano, nessuna falsa dignità e non siete soggiaciuti ad alcun ricatto. Non avete avuto paura né di meretrici né di pubblicani e neanche, ed è tutto a dire, di fascisti. I diritti civili sono, in sostanza, i diritti degli altri. Nella vostra mitezza e nella vostra intransigenza, voi non avete fatto distinzioni. Vi siete compromessi fino in fondo per ogni alterità possibile. Voi non dovete fare altro, io credo, che continuare semplicemente a essere voi stessi, il che significa essere continuamente irriconoscibili, dimenticare subito i grandi successi e continuare imperterriti, ostinati, eternamente contrari a pretendere, a volere, a identificarvi col diverso, a scandalizzare, a bestegnare. Grazie.